L'adesione di Francesca Valente al Partito Democratico giunge 20 mesi dopo la sua elezione al sindaco di Sciacca. Elezione avvenuta a capo di una coalizione di centro-sinistra, un'adesione che arriva non con un annuncio ufficiale ma con la notizia presa da fonti palermitane dal nostro telegiornale solo nella tarda mattinata di oggi. Ossia che il primo cittadino capeggerà la lista congressuale per la provincia di Agrigento a sostegno di Maurizio Martina per la segreteria nazionale del PD nell'ambito delle primarie in programma il prossimo 3 di marzo. Dietro la Valente l'altro candidato è Carmelo Greco, consulente d'azienda, già dirigente del partito vicino alle posizioni del segretario regionale Fausto Raciti. Dietro quest'operazione ovviamente c'è la longa manus di Michele Catanzaro, deputato regionale PD che già nel 2017 convinse l'avvocato e docente universitario a scendere in campo candidandosi e vincendo le elezioni amministrative. Francesca Valente ufficialmente non aveva ancora aderito ad alcun partito volendo mantenere una sorta di collocazione civica. La sua corsa al fianco di un candidato alla segreteria nazionale del PD ne fa ovviamente un iscritto e un esponente ufficiale del Partito Democratico. Un passaggio all'adesione al Partito Democratico della Valente che sul piano politico assume un significato piuttosto importante soprattutto nella fase attuale della vita pubblica di Sciacca sicuramente travagliata e difficile. Il senso del progetto può essere analizzato da diverse angolazioni a partire dalla probabile necessità del sindaco attraverso una sua più chiara connotazione politica di disporre di un sostegno un po' più robusto rispetto alla fase di accerchiamento nei suoi confronti operata dalle opposizioni. Anche se innegabile è un partito democratico quello nel quale il sindaco di Sciacca ha deciso di entrare piuttosto debole e a sua volta bersaglio di attacchi giornalieri da tutti i lati. Con ogni probabilità i dem di Sciacca hanno considerato utile stabilire dei punti fermi da cui cercare di ripartire nell'idea di un progetto di ricostruzione di un PD che a breve dovrà eleggere anche un nuovo segretario cittadino posto che questa è una carica che Michele Catanzaro ha già fatto sapere di intendere lasciare. In pole position per succedergli c'è, ed un fatto fin troppo naturale, Simone Di Paola attuale capogruppo al Consiglio Comunale. C'è chi ipotizza infine che l'iscrizione di Francesca Valente al PD soprattutto nell'ipotesi di un suo ingresso all'interno dell'Assemblea Nazionale possa prefigurare anche una futura candidatura dell'Avvocato Valente ad elezioni particolarmente significative e prestigiose. C'è sicuramente anche questo tra le variabili politiche meritevoli di attenzione ma forse è il caso di non esagerare più di tanto con cervellotiche di etrologia.